Non si parla più di vendita, almeno non per il momento, dell'Accord Fenix S.p.A., l'azienda nata nell'ex polio elettronico dell'Aquila per rigenerare i materiali provenienti dai rifiuti elettrici ed elettronici, cosiddetti RAE, allo scopo di estrapolare materie prime e seconde come rame, vetro e alluminio. A dirlo, a margine della firma di un accordo quadro con l'Università dell'Aquila questa mattina, è stato il direttore generale dell'azienda, Francesco Baldarelli, che parla per la prima volta dopo la nuova inchiesta che ha rischiato di mettere un freno al futuro di una delle realtà industriali e occupazionali più importanti per la città, colpita negli ultimi 15 anni dalla crisi economica prima ancora che dal terremoto. L'inchiesta è quella che ha portato al sequestro preventivo da parte dei finanzieri del nucleo di pulizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila di quasi 5 milioni di euro di fondi post-sisma. Indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche i vertici dello stabilimento, Ravi Shankar, Francesco Baldarelli e Luigi Ademo Pezzoni, tutti presenti questa mattina. Sicuramente questo è stato un problema, ma che stiamo affrontando, che stiamo risolvendo. Come dicevo, la nostra società è a carattere multinazionale, internazionale, perché abbiamo fondi americani, fondi inglesi, italiani, maltesi e anche i centri di comando sono diffusi in tutta Europa, anzi tutto il mondo. Di conseguenza dobbiamo stare al livello di una società di questo genere, che parla per fatti, che le attività vanno avanti. Per quanto riguarda noi, non abbiamo mai avuto timore che ci fosse uno stop pesante. Abbiamo timore di una mancanza di coscienza della realtà che è questa azienda nel territorio aquilano. Abbiamo 60 persone, assunte tutte a tempo indeterminato, tranne due che però vanno a tempo indeterminato fra un mese per motivi di lecce. Quindi 60 persone non sono poche. L'azienda ha circa 40 milioni investiti in macchinari e produce circa 50-60 tonnellate di materiale al giorno. Sono numeri che fanno pensare. Ci saranno altre assunzioni in futuro? Se ci lasciano lavorare con serenità, senza dubbio. Erano già previste. L'attività produttiva dunque andrà avanti con l'impegno finanziario del Fondo americano che rappresenta il maggior azionista dell'accordo Fenix. Le parole del presidente Valtorta vengono confermate da quelle di Baldarelli. Ci penserà Mediobanca a stabilire la strada e le strategie per valorizzare l'accordo Fenix decidendo o meno su un'eventuale vendita. Per ora resta congelata l'assunzione di ulteriori 10 lavoratori che sarebbero così arrivati a 70 previsti alla fine di giugno.